Sono Alberto Bevini, Presidente del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Modena. Noi collaboriamo con BioEcolab da sempre praticamente e queste attività che vengono svolte, specialmente quella di questa giornata, ci vede impegnati in prima persona in quanto noi con la specializzazione di termotecnica che è all'interno del nostro collegio andiamo a coprire tutti quei campi che sono propri dell'energia, l'utilizzo dell'energia, il risparmio energetico e oggi si parlerà di quello che è il futuro con le nuove normative regionali, si parlerà di quello che è il super futuro con la figura del legge che è l'esperto in diagnosi energetiche e poi si tornerà un attimo con i piedi per terra parlando di una cosa che sta interessando tutti i condomini nazionali per il rispetto del decreto ministeriale 102 del 14.